e ragazzi mi date una conferma sì ok buonasera a tutti ragazzi oggi parliamo come anticipato da dale parliamo di postgres e proviamo a dare a vedere un attimo come postgres lavora sotto al cofano e il motivo per cui ho preparato questo sol è dato dal fatto che quando mi ritrovavo io a dover analizzare delle query spesso andavo un po alla cieca nel senso che non ero preparato e quindi cercavo di analizzare una query andando a cercare su stack overflow insomma qualche risposta che potesse darmi diciamo dei suggerimenti su come su come risolverlo su come ottimizzare una query ma poi finivo per veramente essere ancora più confuso e quindi a un certo punto ho detto va bene forse il caso di vedere un attimo come funziona questa cosa ed eccoci qua io sono uno sviluppatore da una decina di anni lavoro in spreaker sprecare una piattaforma di hosting e di monetizzazione per podcaster il team di sviluppo è distribuito in tutta europa lavoriamo da remoto e lavoriamo in lingua inglese ma comunque diciamo che il team di sviluppo è composto anche da una fetta di sviluppatori italiani e quindi potrebbe essere se volete diciamo confrontare con un team internazionale può essere una buona prova e stiamo assumendo comunque più informazioni le trovate sul sul sito careers punto spreer punto com oggi vedremo questa è l'agenda di oggi oggi vedremo innanzitutto come postgres salva i dati poi passeremo diciamo che capire come postgres salva i dati è importante per poi passare a all'explain perché altrimenti l'argomento rimane un po fumoso quindi guarderemo poi l'explain e poi vedremo delle query e faremo appunto dei le controlleremo e capiremo come è possibile ottimizzarle e poi vediamo anche una query optimization journey che non sarebbe nient'altro che capire come fare quando ci si ritrova dover ad avere per esempio delle query che sono problematiche in produzione per esempio e capire come possiamo ottimizzarle quali sono i passaggi da fare questa è la tabella che useremo durante il talk è una tabella piuttosto semplice eh due colonne sole eh student ID che è eh una che che è la primary key della tabella e e name quindi niente di particolare in questa tabella eh cosa ho fatto sono andato a inserire in questa tabella dieci milioni di righe questo perché perché ragazzi è fondamentale quando facciamo questo tipo di analisi e questo tipo di test avere un numero consistente di righe eh dentro la tabella questo perché perché effettivamente eh come poi come poi vedremo avere un numero di righe consistente eh è necessario quando facciamo quando facciamo questo tipo di test perché postgres comunque eh è intelligente abbastanza e cambia il modo in cui si comporta in base appunto a quante righe eh abbiamo all'interno di una tabella e quindi ha poco senso fare determinate prove eh o comunque capire come esegui una query se abbiamo una tabella con cinque righe quindi tabella studenti student ID name dieci milioni di righe ora parleremo appunto come vi ho già anticipato di come postgres salva i dati questi sono i punti che andremo a vedere quindi il tabella di pagine ip e indici il tabella di cos'è il tabella di è eh semplicemente un un identificativo che è mantenuto automaticamente da postgres quindi postgres si si occupa eh di mantenere questo tabella di ed è ed è l'identificativo che usa per riferirsi a una determinata eh determinata riga ehm chiaramente se se noi andiamo a fare tipo un describe di una tabella questo tabella di sarà nascosto quindi è è totalmente trasparente diciamo che è è proprio ciò che lui usa internamente per riferirsi a una riga eh poi abbiamo le pagine e le pagine non sono nient'altro che delle delle locazioni eh su disco eh che hanno una 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 dimensione fissa e ed è proprio dove si trovano i dati di una tabella eh dove dove postgres salva come postgres salva i dati di una tabella qui ho fatto un esempio e come come potete vedere qua abbiamo per esempio pagina zero pagina uno pagina N qui in questo esempio particolare in ogni pagina abbiamo tre righe e infatti come potete vedere qua abbiamo per esempio la prima riga tabella di uno student ID 3000 e il nome chiaramente ragazzi eh postgres non è che si salva i dati in questo formato che è simile più a un CSV che altro ma lavora con dati binari e altra cosa che non ho detto è che by default eh la grandezza delle pagine è di 8 kilobyte in postgres però questo varia dal database per esempio MySQL sono 16 kilobyte e un'altra cosa da tenere in mente è che ehm l'Io di postgres non lavora con le singole pagine con le singole righe scusate eh ma lavora con le pagine che vuol dire vuol dire che se noi chiediamo a postgres una riga e ci serve soltanto una riga lui cosa fa feccia l'intera pagina e poi filtra via le righe che non che non abbiamo richiesto poi abbiamo l'IP e l'IP è effettivamente immaginatelo come come il gruppo di pagine di una tabella quindi è è importante da tenere a mente questo concetto perché quando appunto andavo a cercare delle risposte su stack overflow molto spesso eh nelle risposte ci è scritto qualcosa tipo ok poi postgres deve andare a leggere nell'IP i dati e tirarseli su dall'IP non è nient'altro che dove i dati il susseguirsi di pagine nel disco e quindi chiaramente eh leggere dall'IP essendo eh diciamo avendo bisogno di fare dell'Io è una cosa costosa l'IP abbiamo un'IP per tabella comunque e poi abbiamo l'indici l'indici sono delle strutture dati che noi eh diciamo eh assegniamo on top a a delle tabelle e sono delle strutture dati ottimizzate per la ricerca quindi eh io ho fatto un esempio con con un'agenda e per esempio se voi cercate un contatto all'interno di un'agenda non è che vi scorrete tutte le pagine dell'agenda una a uno perché ci mettete una vita ora non voglio nemmeno iniziare come si usa un'agenda però è per darvi un'idea magari se cercate un contatto che eh inizia con la con la lettera F andate direttamente sulla lettera F e poi cercate da lì il contatto questo è per darvi un'idea di come di a cosa servono gli indici eh gli indici sono questa è un'altra cosa importante da tenere a mente sono ordinati by default quindi se noi abbiamo un indice sulla primary key per esempio in questo caso lo student ID Postgres questo si tiene si tiene l'indice sempre ordinato gli indici anche loro sono eh salvati in pagine ma non si trovano nel leap quindi eh anche qua ho fatto un esempio e anche questo è per darvi un'idea per esempio nella nostra tabella studenti abbiamo comunque ehm abbiamo un indice sulla sullo student ID e infatti per darvi un'idea qua cosa c'è scritto c'è scritto che banalmente 3000 è lo la primary key e qui cosa c'è scritto c'è scritto che questo è il tabula ID quindi l'identificativo che Postgres usa per riferirsi alla singola riga e lo 0 è la pagina quindi quando facciamo una ricerca lui sa che la riga con con 3000 come primary key si trova nella pagina 0 e eh l'identificativo il tabula ID è l'1 quindi sono praticamente dei puntatori alle pagine eh un'altra cosa importante è che essendo diciamo più efficiente avere gli indici in memoria più riusciamo a tenerli piccoli e meglio è perché chiaramente sarà più facile tenerseli in memoria gli indici creati di default da Postgres sono i bit 3 che sono essenzialmente degli alberi bilanciati e e qui avete una rappresentazione ora non stiamo a vedere proprio a parlare dei balance tree in dettaglio ma comunque per darvi un'idea cioè mi ripeto un'altra volta strutture dati che sono ottimizzate per la ricerca quindi tutte le volte che dobbiamo fare delle letture l'indice ci viene in aiuto ottimizzando le letture chiaramente avere degli indici viene con un costo qual è il costo? il costo è sull'operazione di scrittura perché noi ora potremmo anche pensare e dire vabbè visto che gli indici sono ottimizzati per la ricerca io la faccio semplice crea un indice per tutte le colonne e ciao quindi le letture saranno velocissime sì però devi pensare anche che dall'altro lato c'hai le scritture e chiaramente ogni volta che vai a fare una scrittura tenere aggiornato l'indice quindi voi immaginate tutte le volte che fate una scrittura comunque Postgres deve mantenere questo albero bilanciato e quindi tutte le volte che facciamo la scrittura questo albero bilanciato se lo deve tenere e questo porta delle diciamo le operazioni di scrittura saranno chiaramente affette da questo meccanismo ok abbiamo visto come come Postgres diciamo salva i dati e possiamo passare all'explain e probabilmente già un po' avrete visto se vi siete ritrovati al dovere è un comando che probabilmente avete visto se vi siete ritrovati a dover appunto ottimizzare delle query ottimizzare delle query quindi explain qui stiamo facendo un explain select student ID from students e questo è l'output dell'explain e adesso andremo diciamo a vedere in dettaglio come come funziona e cosa vogliono dire appunto tutte questo index only scan eccetera eccetera scusate bevo un attimo quindi l'explain voi immaginate tutte le volte che fate una query a Postgres cioè che chiedete qualcosa a Postgres Postgres ha un query planner query planner è diciamo il colui che si occupa di creare un query plan il query plan ci dà informazioni su come Postgres andrà a risolvere la query e quindi diciamo ci dà informazioni su come la query verrà eseguita quando usiamo l'explain da solo la query non viene realmente eseguita e questo perché diciamo che con l'explain si basa Postgres si basa su delle statistiche che mantiene lui internamente poi dopo parleremo più nel dettaglio delle statistiche la struttura dell'explain è composta di nodi e solitamente si legge dal basso verso l'alto quindi dai nodi figli i nodi figli ti restituiscono delle righe che poi verranno diciamo lette dai nodi più alti dai nodi padre quindi in questo caso stiamo facendo un explain select student ID from students where student ID uguale a 2000 mi rendo conto che questa query non ha molto senso perché effettivamente stiamo richiedendo lo student ID e li stiamo dicendo dove lo student ID uguale a 2000 non ha molto senso ma è giusto a scopo esplicativo però possiamo vedere che l'index only scan è il table access method che significa significa che ci dà informazioni su come Postgres recupererà i dati che gli abbiamo richiesto e il table access method cambia in base a un sacco di fattori quello che quello che vi stavo dicendo prima quando parlavo di inserire un numero consistente di righe perché comunque quello è un fattore che Postgres tenne in considerazione tenne in considerazione gli indici tenne in considerazione anche il fatto che gli stai chiedendo per esempio delle righe ordinate o no comunque vedremo degli esempi più avanti quindi abbiamo parlato del table del table access method qua vediamo che ci sono dei costi questo in particolare è lo startup cost e si riferisce al diciamo costo che il costo per recuperare la prima pagina dove risiedono i dati che abbiamo richiesto a Postgres questo 0.43 non è un tempo ma è un'unità di misura arbitraria che si chiama disk page fetches praticamente detta semplificando molto perché in realtà è più complicato più complesso di così ma comunque immaginatela come quante pagine deve deve leggere per restituire i dati di mezzo c'è anche la cpu in realtà ma cerchiamo di tenerla più semplice possibile 4.45 è il total cost quindi questo è lo startup cost questo è il total cost il total cost è il costo totale per recuperare quindi per eseguire la query in totale ora io sto parlando di query in questo caso una cosa da tenere a mente è che in realtà i costi prima vi ho detto che l'explain in realtà lavora con nodi quindi se noi in questo caso abbiamo soltanto un nodo che è questo se noi avessimo più nodi in realtà vedremo i costi di ciascun nodo quindi questo ci aiuta a capire anche magari se c'è se c'è un collo di bottiglia in un particolare nodo poi abbiamo rose rose sono le righe emesse da questo particolare nodo questo è un valore un po' tricky nel senso che queste qui sono le righe soltanto le righe emesse dal nodo cosa significa significa che in realtà Postgres potrebbe aver fatto lo scan di molte più righe per per darci poi le righe che effettivamente hanno i secchi le righe che effettivamente quel nodo emette e poi abbiamo la width la width è espressa in byte ed è semplicemente la la dimensione media delle righe emesse dal nodo quindi questo numero qua per esempio lo lo vedrete aumentare e diminuire in base a quanti dati quindi se qua per esempio ci fosse una select star invece di student ID vedremo che la width aumenta Postgres ci fornisce anche un'opzione da usare con con l'explain che è analyze e analyze a differenza dell'explain usato da solo esegue la la query quindi quindi se per esempio state cercando di ottimizzare una delete e fate explain analyze delete cancellate i dati quindi c'è da stare un po' attenti ed è comunque utilizzare l'analyze è preferibile perché lavoriamo effettivamente su dati reali quindi i risultati che ci dà Postgres sono più attendibili rispetto all'explain usato da solo e in più ci fornisce anche ulteriori informazioni riguardo alla query che sono ad esempio il planning time e l'execution time che vedremo tra poco quindi il planning time è diciamo il tempo che Postgres impiega per creare un query plan quindi in realtà è il tempo che il query planner impiega per creare un query plan questo può cambiare se per esempio questo tempo qua può aumentare se per esempio Postgres deve decidere quale indice usare o se deve fare appunto aggregazioni o qualche sorting prima di eseguire la query a differenza dei costi ragazzi il il planning il time quindi planning time execution time sono espressi in millisecondi quindi diciamo che sono di più facile anche lettura quando voi state analizzando una query e vedete un costo che comunque come abbiamo visto è un'unità di misura arbitraria così a colpo d'occhio forse è più utile avere dei dati espressi in millisecondi e poi abbiamo l'execution time che è il il tempo totale per eseguire la query una cosa da notare è che l'execution time diciamo che nell'execution time non è non è incluso il planning time quindi sono proprio distinti un'altra informazione che ci dà l'analyze è l'ipfetch che non è nient'altro ci dà informazioni su praticamente quante volte quante volte dobbiamo andare a leggere all'interno dell'ip per restituire i dati che abbiamo richiesto ora partiamo col primo esempio di query in realtà il primo esempio è uguale alla query che abbiamo fatto prima e cioè di nuovo andiamo a chiedere a Postgres lo student id dove lo student id è uguale a 6 la solita query no sense di prima ma appunto di nuovo a titolo esplicativo e qua praticamente Postgres ci sta dicendo che sta usando un index only scan e che significa sta usando un index only scan che sta utilizzando l'indice che abbiamo sulla colonna student id e ci sta dicendo anche un'altra cosa ci sta dicendo che avendo chiedendoli noi soltanto lo student id lui praticamente non deve neanche andare sull'ip a recuperarsi i dati perché ha già tutti i dati che li abbiamo richiesto sull'indice e questo è diciamo questa è la query la maggior parte delle volte è la query più efficiente che possiamo avere perché si tratta soltanto di andare nell'indice abbiamo già tutti i dati nell'indice quindi non dobbiamo neanche diciamo non abbiamo neanche il costo di dover andare su disco e quindi sull'ip a recuperarci i dati che ci servono cambiamo esempio se invece chiediamo il name e il name non ha indici glielo chiediamo però chiedendogli il name dalla tabella studenti dove lo student id è uguale a qualcosa che cosa possiamo notare intanto possiamo notare che in questo caso stiamo usando un index scan quindi cosa significa significa comunque l'indice sullo student id lo stiamo usando quindi cosa fa Postgres va a leggere sull'indice legge ok questa la riga che mi ha chiesto si trova alla pagina x va sull'ip alla pagina x si recupera e va alla pagina x e sa anche a quale tabula id si riferisce la riga che abbiamo richiesto si tira su l'intera pagina e filtra i dati tutto questo ovviamente viene con un costo avviene con un costo e infatti possiamo notare che rispetto alla query precedente l'execution time è passato da 0,2 qualcosa millisecondi a un millisecondo e mezzo più o meno proprio per questo overhead di leggere nell'indice e poi dover andare nell'ip a recuperare ciò che nell'indice non abbiamo che è il name una cosa ragazzi da tenere in considerazione quando facciamo quando appunto analizziamo una query e cerchiamo di ottimizzarla è che se noi dovessimo rieseguire la stessa query due volte Postgres fa uso di hash e ci sono più strati di hash ci sono a parte la hash di Postgres in sé ma poi anche per esempio la hash che abbiamo sul disco la hash che abbiamo dal sistema operativo e quindi chiaramente se rieseguiamo la stessa query un'altra volta vediamo come l'execution time la seconda volta si è ridotto di molto quindi questa è una cosa che inizialmente infatti può trarre un po' un inganno nel senso prima mi davi i risultati in un millisecondo dopo me lo dai in un decimo ok forse c'è la hash in mezzo che sta facendo cose proviamo adesso invece a richiedere anzi proviamo adesso a dare un sorso di acqua poi vediamo che cosa richiediamo adesso cosa facciamo chiediamo lo student id sempre però in questo caso vogliamo diciamo filtrare gli studenti che hanno questo nome cosa sta facendo adesso Postgres ci sta dicendo che per restituirci le righe che gli abbiamo richiesto sta facendo una una sequential scan cos'è la sequential scan la sequential scan è la full table scan che si chiama in mySQL se non vado errato ma praticamente ci sta dicendo che visto che non c'è un indice disponibile quello che deve fare è andare su sull'IP quindi lui si scorre tutte le pagine quindi perché perché non sa effettivamente pensate a un'agenda in cui avete scritto tutti i contatti a caso dovete vedervi tutte quelle che hanno quel nome là ed è quello che essenzialmente stiamo facendo in questo caso qua poi chiaramente Postgres cerca di ottimizzare questo tempo perché comunque leggersi tutto l'IP come vi ho già ripetuto è una cosa dispendiosa quindi cosa cerca di fare lui cerca di ottimizzare questo tempo e come l'ottimizza l'ottimizza facendo una sequential scan in parallelo con due worker infatti se notare qua ha fatto tre loop quindi tre sequential scan in parallelo e ogni ogni diciamo ogni esecuzione parallela ha rimosso 3.333.000 eccetera eccetera che sono esattamente se le moltiplicate per tre i 10 milioni che abbiamo che abbiamo dentro meno la riga restituita da questa query una cosa da tenere in considerazione che è il campanello d'allarme quando state effettivamente analizzando una query è che quando noi abbiamo la cosa che ci deve saltare all'occhio quando analizziamo una query è questo rows removed by filter quando questo rows removed by filter ha un valore diciamo alto significa che molto probabilmente quella query la possiamo migliorare la possiamo ottimizzare considerate tra l'altro che questo significa che comunque lui si deve leggere tutte le righe e deve applicare il filtro della where a ogni singola riga e tutto questo bel lavorino è sulle spalle della cpu quindi insomma lo carichiamo abbastanza poi si il planning time come vi dicevo prima non è a zero e questo perché diciamo è come se si chiedesse ok ho qualche indice disponibile che posso usare per eseguire questa query e quindi già questo tempo per creare il plan e capire quale indice puoi usare richiede vabbè un tempo che comunque non è diciamo lo possiamo ignorare perché è bassissimo ma questo per darvi un'idea che comunque tutte le volte che noi creiamo un plan per una query comunque vengono fatte delle considerazioni ecco dal query planner se come in questo in questo esempio in particolare chiediamo che poi la query è esattamente la stessa di prima ma facciamo una like usando un'espressione ci accorgiamo che l'execution time è andato ancora più in alto scusatemi eccolo l'execution time è aumentato rispetto a prima questo perché l'espressione con le wildcard che le abbiamo richiesto è più pesante e quindi comunque la cpu impiega più tempo per cercare delle espressioni quindi come facciamo diciamo a evitare che vengano fatte le sequential scan su una tabella e quindi ottimizzare e vabbè appunto possiamo creare un filtro un indice scusate possiamo creare un indice su il nome degli studenti tenete a mente che creare un indice soprattutto su grandi tabelle non è una cosa che possiamo fare così voi pensate tabelle con milioni e milioni di righe in cui l'applicazione deve comunque rispondere sempre la creazione dell'indice locca la tabella in scrittura quindi questo significa che per tutta la durata della creazione dell'indice il database su quella tabella in scrittura ti risponde picche e quindi è una cosa che noi vogliamo vogliamo evitare in produzione non è una cosa che ci possiamo permettere come possiamo risolvere questa cosa possiamo risolverla usando concurrently quindi create index concurrently di modo che effettivamente in questo modo la creazione dell'indice non ci locca la tabella in scrittura la creazione dell'indice con concurrently comunque è più pesante rispetto alla create index dritta così perché perché il concurrently comunque deve fare due full table scan per per crearle quindi impiega un po' di tempo e comunque questo significa anche che è pesante anche sul disco comunque ora noi non tratteremo a fondo questo tema di migrazioni e come risolvere i problemi che ci possono dare in produzione ma se siete interessati comunque sul blog di Spreaker Careers c'è un blog post che parla di molti casi e vi dice come affrontarli quindi benissimo torniamo alla nostra query abbiamo creato l'indice quindi richiediamo i dati alla tabella students di nuovo filtrando dal nome e adesso siamo felicissimi perché comunque l'execution time è basso di nuovo e come potete vedere sta usando l'indice correttamente che succede però se noi facciamo di nuovo una serie star sulla tabella studenti però usiamo like succede noi abbiamo comunque l'indice però succede che qua ragazzi stiamo di nuovo usando la sequential scan e quindi male molto male questo 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 esempio per dirvi cosa per dirvi che non tutti gli indici si prestano a tutti i casi d'uso in questo particolare caso il B3 index che abbiamo creato sul sul name non funziona con le wildcard che stanno all'inizio del della stringa per cui abbiamo richiesto il like è una cosa da tenere a mente Postgres fornisce più tipi di indice quindi ognuno è diciamo da utilizzare in base alla nostra applicazione quindi sappiamo che la nostra applicazione fa determinate query su alcune colonne dobbiamo avere in mente quale tipo di indice è più performante per quel tipo di caso d'uso per questo in particolare ci sono degli indici che si chiamano trigram index o ma diciamo che quando solitamente quando fai delle ricerche su di questo tipo o usi la full text search o ancora meglio ti affidi a un search engine che è sicuramente più performante in questo caso invece stiamo passiamo a un altro esempio in questo caso stiamo chiedendo tutti i dati dalla tabella quindi noi vogliamo tutto cosa vediamo? che in questo caso qua facciamo una sequential scan perché tanto dobbiamo dobbiamo prendere tutto quindi andiamo nel leap e recuperiamo tutto nel secondo caso gli chiediamo sì tutto però gli chiediamo ordinati dal nome che succede? come vi ho detto all'inizio gli indici sono ordinati di default quindi mentre in realtà i dati nel leap non sono ordinati non è che sono ordinati per primary key l'ordine ce l'abbiamo l'ordine ce l'abbiamo soltanto sugli indici quindi Postgres cerca di sfruttare il fatto che ha già l'indice ordinato però qua se vediamo bene anche se noi stiamo utilizzando un indice qua comunque il costo è ben più alto rispetto alla sequential scan tra l'altro sequential scan che in questo caso non è non è lanciata in parallelo perché non c'è l'analyze però la sequential scan volendo può anche essere eseguita con più worker in parallelo mentre l'indice l'indice no quindi cosa succede praticamente quando noi recuperiamo molti dati utilizzando un indice Postgres deve andare nell'indice leggersi la pagina dell'indice e quindi capire dove leggere il puntatore alla pagina e bla 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 tornare nell'ip prendersi i dati poi rifare un'altra riandare di nuovo nell'indice rileggersi l'indice nella pagina e fa diciamo questo round trip più volte e questo è il motivo per cui per cui il costo è più alto quindi come buona regola ci sono dei casi quindi questo per dirvi cosa che non sempre la sequential scan quando la vedete dite oh mio dio sta facendo una sequential scan devo creare un indice per forza a volte è comunque più performante poi vabbè in questo caso in realtà gliel'abbiamo chiesti ordinati quindi per forza dovevo usare l'indice però il messaggio che voglio passare è che non appunto la sequential scan a volte è la soluzione che è più performante un'altra cosa importante è riguarda le statistiche come praticamente Postgres si tiene traccia di molte statistiche internamente sulle tabelle e io quando appunto ho inserito dati sulla tabella students ho inserito appunto i 10 milioni di righe dopo ho fatto un explain questo explain qua effettivamente mi sono reso conto che le righe qua erano completamente sballate cioè è come se mi dà 20 milioni di righe anche se la tabella ne contiene soltanto 10 questo perché perché effettivamente non è che Postgres cioè le statistiche vanno vanno tenute aggiornate per avere diciamo per non incorrere in problemi di performance questo perché perché le statistiche vengono usate pesantemente da Postgres per capire quale quale metodo di accesso ai dati è più efficiente cosa qual è il comando che che utilizziamo per per aggiornare le statistiche è analyze quindi dobbiamo tenere a mente che per per avere delle statistiche aggiornate dobbiamo eseguire degli analyze sulle tabelle in questo modo qua come potete vedere a questo punto le righe hanno già più senso poi chiaramente queste sono tutte stime con l'explain da solo non vi darà mai il 10 milioni preciso però a quel punto avendo delle statistiche aggiornate Postgres può prendere delle decisioni migliori in termini di performance un altro esempio sulle statistiche è questo se noi andiamo a chiedere sulla tabella students tutte le righe dove lo student ID è minore di 100 voi potete immaginare che su una tabella di 10 milioni di righe gli student ID minore di 100 sono una piccolissima parte e Postgres lo sa grazie alle statistiche e quindi decide che effettivamente il modo più conveniente per recuperare queste righe è utilizzare l'indice mentre se noi gli chiediamo tutte le righe dove lo student ID è maggiore a quel punto a quel punto lui sa che comunque gli stiamo chiedendo praticamente tutta la tabella e di nuovo decide di andare a fare una sequential scan e quindi leggersi tutte le righe una dopo l'altra quindi per ricapitolare per fare un recap sulle statistiche il query planner come vi ho detto tante volte ora si basa sulle statistiche per prendere delle decisioni e per crearsi il query plan avere delle statistiche non aggiornate può portare a dei problemi di performance le tabelle che hanno valori diversi quindi sono più sparse hanno dei valori più diversi vanno aggiornate più spesso e allo stesso modo le tabelle su cui facciamo più operazioni di scrittura sono quelle che diciamo sono quelle da le cui statistiche vanno aggiornate più frequentemente Postgres di default ha un un demon che è l'autovacum demon che è attivato di default e che si preoccupa lui di aggiornare le statistiche per le tabelle quindi quindi in realtà con l'installazione di default di Postgres non dovreste avere problemi tra l'altro l'autovacum demon diciamo si accorge anche lui da solo quale sono le tabelle che richiedono un aggiornamento di statistiche più di frequente noi noi in Spreaker utilizziamo AWS Aurora e anche su AWS Aurora non ci dobbiamo preoccupare di andare manualmente a lanciare degli analyze perché le statistiche sono comunque aggiornate internamente da Aurora adesso vediamo come vi ho detto all'inizio del talk cos'è che diciamo dobbiamo fare quando ci accorgiamo per esempio andando a dare un occhio alle metriche che c'è ci potrebbe essere un collo di bottiglia a livello di database noi in Spreaker utilizziamo un tool che si chiama che è fornito da AWS e si chiama performance insights e però tool simili sono per esempio New Relic o alle Brut se non ci sono proprio se non avete a disposizione nessun tool del genere anche attivare per esempio il log sulle slow query è una cosa che vi può venire in aiuto la cosa diciamo utile di performance insights è che immaginate che voi che voi avete query che durano non lo so molto tempo ma che vengono eseguite soltanto una volta al giorno e magari non su un hotpath e invece avete altre query che sono mediamente lente quindi non lentissime ma che vengono eseguite su degli hotpath quindi tantissime volte performance insights si accorge di questa cosa ti mostra effettivamente le query più problematiche tenendo in considerazione anche quante volte vengono eseguite e comunque la prima cosa che solitamente si fa è capire quali sono le query problematiche le andiamo analizzare proviamo a ottimizzarle e le ottimizziamo e chiaramente le ottimizziamo in locale o su un ambiente di dev o su stage però la parte fondamentale è che poi per quanto noi si cerca di ottimizzare una query su un ambiente di stage o in locale la cosa più utile è testarla in produzione perché come vi dicevo prima questo genere di ottimizzazione vanno fatte sulle tabelle che hanno dati consistenti e comunque quindi è molto più attendibile controllare il risultato della vostra ottimizzazione in produzione una volta fatto questo il deploy in produzione chiaramente torniamo a ricontrollare il nostro tool che ci dà delle informazioni sulle query e ripetiamo se non abbiamo più problemi va bene così altrimenti ripetiamo questo questo flow una cosa che ci tengo a dirvi ragazzi è che chiaramente oggi abbiamo visto diciamo soltanto una minima parte ci sono molti concetti che di cui dovremmo parlare e tra l'altro capire bene come Postgres lavora sotto al cofano è praticamente un'arte serve tantissimo tempo per capire come fare effettivamente a ottimizzare una query è un lavoro che richiede veramente anni di esperienza tra l'altro appunto magari non vi ritrovate così spesso io personalmente non sono nemmeno un db admin quindi ci vuole veramente tanto tempo non è un lavoro che fai day by day solitamente e però comunque spero di avervi dato qualche informazione e qualche strumento da mettere sulla vostra cassetta e gli attrezzi che possa aiutarvi la prossima volta e vi ritrovate a dover avere a che fare con delle query io spero ragazzi non avervi addormentato e vi ringrazio 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 e vi ringrazio